Pare non esserci pace per la coppia Maria e Gonzalo, che in questa puntata riceveranno una triste notizia, la bambina ha contratto una brutta febbre ed infezione, e questo significa che potrebbe anche non sopravvivere. Nessuno lo immagina, ma noi lo sappiamo, il dottor Lesmes è la causa di questo problema, in quanto ha infettato gli strumenti del parto, inducendo volontariamente la malattia alla piccola esperanza. Per quanto riguarda la malattia di Anibal invece, sembra retrocedere, questo porterà la famiglia Buendia ad intuire che il problema potrebbe risiedere in qualche intolleranza provocata da ciò che utilizza per la produzione dei formaggi ed è quindi abituato a mangiare, in realtà si tratta dell'acqua contaminata del fiume. Aurora, continua a recarsi in carcere per far visita a Conrado. Qui il Buenaventura però si mostrerà duro e scontroso con Aurora, la quale, si avvicinerà all'uomo per vedere cosa nasconde dietro le mani che gli coprono il viso, qualcuno lo ha picchiato in quanto riporta molti lividi sul volto. Soledad e Simon, continueranno a vedersi e saranno sempre più vicini, così la sorella di Tristan deciderà di portarlo in un posto a lei molto caro. Il loro atteggiamento farà intuire che presto fra i due, scatterà un bacio pieno di passione. Terence intanto, non si mostra preoccupato per l'avvicinamento tra sua moglie e il sosia di Juan, anzi sembra essere felice, questo perché l'uomo ha scoperto quali sono i piani del giovane poeta, ovvero partire a breve per la lontana Australia.